Dopo il grande successo della prima edizione, sabato e domenica prossimi, torna il concorso d'eleganza per auto d'epoca firmato Targa Puglia, patrocinato dall'Automobile Club Bari Batte e dal Club ACI Storico e ospitato quest'anno dal centro commerciale Bari Blu. Una o due giorni all'insegna dell'eleganza e della passione per le auto d'epoca in cui i visitatori avranno l'opportunità di ammirare all'interno e all'esterno del centro commerciale vetture costruite tra gli anni 20 e gli anni 80, suddivise tra le categorie berline, cabriolet, coupé, spiaggine, microcar e un'ultima categoria a sorpresa. L'iniziativa è stata presentata a Bari nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti Giuseppe Conversano, direttore del centro commerciale Bari Blu, Francesco Ranieri, presidente dell'Automobile Club Bari Batte, Michele Perla, presidente Targa Puglia, Carla Palone, assessore allo sviluppo economico del Comune di Bari e Maria Grazia De Renzo, direttore dell'ACI Bari Batte. Ospitiamo questa seconda edizione di concorso di eleganza anche per aprire porte del centro commerciale ad altre attività culturali e di ottimo livello organizzata da Targa Puglia e da ACI Storico abbiamo avuto il piacere di ospitare e sono sicuro che l'interesse dei nostri ospiti, al di là degli aspetti commerciali che il nostro centro offre, sarà sicuramente alta. Questa insieme a tante altre iniziative che diversificano l'offerta di Bari Blu e che ben accoglie una proposta come questa di Targa Puglia con questo concorso di eleganza per auto d'epoca. Anche in questo weekend sono previste delle carinissime manifestazioni che sono particolarmente gradite ai ragazzi perché si vede l'effetto dell'alcol, dello stupefacente, della stanchezza e dico sinceramente è utile. Poi sono gocce, gocce di saggezza, gocce di tenacia perché purtroppo ogni giorno dobbiamo pensare che la guida è un momento pericoloso dove dobbiamo tutti stare molto molto attenti. Sarà una giuria composta da cinque membri esperti del settore a designare i vincitori per categoria A e per il premio Best of Show. Attenzione particolare alla meccanica più sofisticata sarà invece rivolta dai giudici per l'assegnazione del Memorial Mangialardi dedicato proprio alla memoria del professor Luigi Mangialardi, membro della giuria nell'edizione scorsa scomparso proprio il giorno del primo anniversario dell'evento. Spazio anche agli amanti della fotografia con il concorso fotografico Bari Blu. Questo evento è frutto di tanti anni di passione, di auto d'epoca, sono riuscito a portare delle macchine in forma statica interessanti nel senso che nella collezione Alfa Romeo per esempio ci sono due pezzi molto rari, parliamo di una macchina che ce ne sono rimaste se non una cinquantina di esemplari, parliamo di un'altra macchina che è una semplice alfetta per l'occhio di un profano ma è la prima alfetta, cioè almeno l'alfetta attualmente più vecchia al mondo, per cui della produzione è la più antica. Poi c'è una collezione Abarth di un nostro caro amico di Monopoli che veramente sono dei pezzi molto importanti e poi ne arriveranno di parecchie, ci sono appunto queste piccole anticipazioni che vi ho fatto c'è qualcuno che arriverà da Napoli, c'è una macchina, un'altra sorpresa, sarà una macchina che ha fatto un film importante un telefilm importante, una serie televisiva importante che poi vi sveleremo.